è esagerata questa pizza, ma io, quanti si mangia insieme perché io non ce l'ho fuori a parere ciao Checco, sono emozionato senti, siamo qui amore mio per lanciare una nuova pizza, la Toscana in bocca ti ricorda qualcosa? mi ricorda un programma, l'ho sentito dire da qualche parte ma non mi ricordo bene, la Toscana in bocca c'erano circa 1, 2, 25 mila persone che ne parlavano non me ne ricordo bene, non me ne ricordo bene, è veramente confuso che non mi ricordo bene senti, una pizza ci hanno preparato Toscana, la mozzarella Toscana sento l'odore che ci deve sedere la pancetta dentro non è pancetta perché il prodotto toscano è largo di colonnata ci sono le cipolle di Valdibure marinate nel Chianti mamma che bellezza e ovviamente il nome la Toscana in bocca allora si mangia? si mangia, si ringrazia il nostro pizzaiolo toscano però potete un piatto che si divide in due perché questa è veramente tanta roba tanta roba mi sembra anche che qui o riduciamo le pizze o allarghiamo i piatti che ecco perché perfetto è arrivato un piatto, un quartino me lo dai anche a me un quarto che ecco, grazie ciao e ci vediamo alla prossima la Toscana in bocca amore mio ciao 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 ciao